I primi minuti, aver subito il gol, Bonandi da fuori, mi siete compattati in una maniera tale che avete cambiato il volto della partita. Ma cosa è successo? Cioè fra di voi è successo qualcosa che stiamo perdendo, un uomo importante ci manca, la squadra è cambiata da così a così. Ma forse siamo partiti un po' spaesati, nel senso che loro avevano un buon possesso e non eravamo organizzati bene per la fase difensiva. Dopo abbiamo subito il gol, ci siamo guardati un attimo, abbiamo sistemato un po' le posizioni in campo, ci siamo organizzati meglio. Infatti dopo siamo riusciti a trovare una soluzione per adottare una fase difensiva migliore e poter fare male anche noi. No, ho visto la squadra sul 2-1, ha continuato naturalmente come aveva iniziato nel secondo tempo, senza avere degli intennamenti, delle insicurezze, quindi padronanza. E anche loro si sono sentiti tutti smarriti di fronte a una realtà, quindi è stato un bel impatto. Quindi credo che questo sia un buon auspicio per iniziare un campionato. Vincere con una squadra che sulla carta, credimi, pregi vuole un po' l'uomo, che io penso di conoscere buona parte, non era facile poter venire con un risultato che poteva essere anche più profondo. No, no, infatti penso che è stata una prova molto positiva, abbiamo dimostrato sicuramente carattere e anche delle buone idee. Siamo riusciti a creare diverse occasioni, siamo stati ordinati, compatti. Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il Ministero e ne usciamo sicuramente molto più consapevoli delle nostre qualità. Volevo chiederti quanto ci tenevi a segnare, visto che sei andato vicino un paio di volte, poi è fatto nella maniera meno consueta. Sì, ci sono andato vicino un po' di volte, infatti ero lì che un po' rosicavo, dicevo porca miseria, non arriva. E dopo Mario ha messo una gran palla, una delle mie qualità, delle mie caratteristiche comunque è quella dell'inserimento, ho preso bene il tempo e dopo ho fatto gol. Come procede dal tuo punto di vista l'amalgama con i tuoi compagni? A che punto siete? No, devo dire bene. Dopo più di un mese di lavoro, secondo me, oggi magari a parte i primi minuti, dopo ci siamo organizzati bene in campo, ho visto tante cose che proviamo anche in allenamento, eravamo ordinati, avevamo le idee chiare. Quindi, secondo me, anche dal punto di vista della coesione di squadra, siamo sulla strada giusta. Questo non cambia niente. Se posso forza, avete di barra posta, almeno sulla carta. La prima. Ma è Casadio che l'ha toccata. A mio giudizio, Casadio ha alzato le mani, ma per un segno di dire in gol oppure l'ha toccata lui? Non lo so, perché io ero proprio di lato, ero defilato e quindi non ho visto partire il tiro. Io ho avuto così, la sensazione è che... Però sì, c'era anche Casadio di mezzo, bisogna chiedere a loro due. Sicuramente uno dirà che è di uno e uno dell'altro. Vabbè, io l'ho letto che ho detto che questo sì, ma ho riuscito a dire un po' di spiegare, anche il gatto e il gatto. Eh, non lo so. Grazie.